si sente spesso parlare di bandi di finanza agevolata fondi e innanzitutto dobbiamo fare una grande distinzione tutti i fondi che ci sono e sono moltissimi sia del PNRR sia per quanto riguarda la nuova programmazione 21 27 saranno destinatarie non soltanto alle imprese ma anche le professioni perché professioni e imprese saranno perfettamente equiparate come entità destinatarie di questi fondi e di conseguenza c'è la possibilità anche per i medici per le strutture mediche di fare lo stesso percorso che si può fare sia in forma singola che in forma associata che in forma di struttura societaria cosa vuol dire affidarsi a un professionista che fa questo innanzitutto è un'analisi che occorre fare congiuntamente che primo step cioè un'analisi congiunta dove il medico o lo studio medico ci dirà le sue esigenze che possono essere quelle di un investimento in un macchinario innovativo può essere quello di aver comprato o voler acquistare un macchinario di una particolare complessità e quindi ci sono i finanziamenti per l'impresa 4.0 oppure c'è la necessità di ristrutturare lo studio medico oppure ancora c'è la necessità di far finanziare la formazione del personale specialistico oppure ancora la possibilità di cercare fondi di ricerca e sviluppo ecco diciamo questo è il primo step base cioè cosa serve al medico allo studio medico e a chi esercita la professione sanitaria abbiamo visto che in questo mare magnum di opportunità chiaramente è possibile che ci sia in corso il bando adatto oppure nel caso in cui la finestra di finanziamento debba ancora essere aperta basta nient'altro che raccogliere diciamo la scheda di interesse e fondamentalmente avvisare il medico quando la misura è pronta o quando è possibile partecipare al bando oltre lo scouting che questa prima fase che abbiamo descritto è importante capire anche gli strumenti finanziari in dotazione dello studio perché ci sarà necessariamente un tempo tecnico da colmare che vada al momento in cui si presenta la domanda al momento in cui c'è l'aggiudicazione del finanziamento in questa fase è possibile far finanziare l'operazione quindi se può essere l'acquisto di un macchinario la ristrutturazione dello studio o cose similari da la finanza ordinaria che una volta che abbiamo avuto la graduatoria quindi di fattibilità del progetto e quindi risultato ammissibile il finanziamento sarà tanto più facile ottenere anche le anticipazioni bancarie questo sarà compito del professionista che accompagnerà il medico in tutta questa fase la fase più importante che la terza ed è il cuore si può dire del nostro ragionamento è quello di fare la stesura del progetto cioè dove il professionista indicherà le caratteristiche salienti del progetto che il descrivendo per bene le innovazioni se ci sono nel macchinario oppure innovazioni di processo oppure innovazioni scientifiche se così fosse avremmo anche la possibilità di cercare un partenariato scientifico con una validazione di questo processo procedimento anche attraverso un ente di ricerca o un'università infine ma non per ultimo c'è la fase di rendicontazione del progetto spesso i progetti nascondono dei tagliole vere e proprie che sono nascoste nel bando nell'avviso pubblico nel formulario e soltanto chi si occupa di europrogettazione da molti anni riesce un po ad evitare in maniera convincente una strada che altrimenti sarebbe molto tortuosa da affrontare questo permette di rendicontare con precisione le spese effettuate e quindi di avere poi il saldo del finanziamento per il quale si è partecipato il nostro diciamo consiglio per i medici gli studi medici di dotarsi di un di professionisti qualificati per far questo la sercam advisory è una società che si occupa da questo già da molti anni e mette a disposizione di consulcesi in partners l'esperienza che abbiamo già maturato in questo settore l'esperienza Grazie.